possiamo metterci a ridere sotto questo aspetto perché voglio dire la regione noi stiamo combattendo noi anche i comitati preposti a fare questa cosa qua oramai da anni però si è sempre fatto l'orecchio del mercante si dice qua cioè quello di far finta di non sentire però in realtà il problema c'è in campagna elettorale adesso con le politiche ci sono stati in molti politici hanno cercato di usarlo come cavallo di battaglia ma in realtà poi finite le votazioni si sono di nuovo tutti dimenticati quindi c'è una troppa e troppo menefreghismo in merito a questo però io penso che questo invece dovrebbe essere un problema serio per per il mondo intero non per il salento sarebbe troppo restrittivo dire per andrea o per quello io penso che questo è un bene che potrebbero fruirne tutti solo alla vista già cioè tu vedere un bell'albero d'olivo secolare è un monumento insomma tutti gli effetti quindi al di là del fatto economico ripeto della produzione dell'olio eccetera eccetera anche perché hanno proposto in qualche modo di fare il cambiamento e quindi tirar via questa varietà e piantare altre varietà che non sono attaccabili con la xylella io penso che hanno superato migliaia di anni no sono secolari e quindi se stessimo attenti a non fargli del male noi volontariamente dovrebbero quasi reagire da soli e quindi risolversi automaticamente il problema spero così quindi voglio guardare con la luce dopo il tunnel perché forse il mio modo di pensare in genere quindi io spero bene e ci credo grazie a tutti grazie a tutti